Posso rispondere a questa cosa della discoteca? Io ci tengo a dire, e lo dico veramente con il cuore a tutti i cittadini italiani, noi personalmente, parlo anche per me, io provo a lavorare il più possibile delle ore della giornata, tutte quelle che ho, per fare... ci tengo veramente bene il bene del mio paese, perché il mio paese lo amo, eccetera. Una sera, dopo sei mesi di lavoro, è stato un modo, come dire, anche per buttare via tutto lo stress accumulato. Non penso che abbiamo fatto nulla di... Ma ci mancherebbe, non era una questione moralistica, semmai scaramantica, nel senso che, insomma, visto come sono andati i primi festeggiamenti, tanto vale un po' più... No, no, però, guardi, ribadiamo, il reddito di cittadinanza e il quota 100 ci saranno, poi festeggiare o meno sul balcone può essere considerato di bello, cattivo gusto, però quelle misure ci saranno. Sui social gira una foto bellissima, il fotomontaggio con Juncker al posto di Maio, il valore che festeggia lui. Si è stata, tra l'altro, ripostata da Andrea Orlando, se non sbaglio. Vado un attimo a Milano per salutare e dare il benvenuto a Francesco Specchia, editorialista di Libero, direttore di un...